Non è sufficiente nemmeno la prova di Tijani Noslin, uno dei giocatori di caldo più attesi del Verona in questa partita col Genoa. Non è riuscito, come ha fatto in passato, come ha fatto negli ultimi due mesi, a fare la differenza per i suoi. Baroni lo ha richiamato spesso, ha fatto fatica a rendersi pericoloso davanti, solo un paio di cross insidiosi. Non è riuscito mai ad impegnare Martinez di fatto. Prende 5 e mezzo per la relazione di FantaCalcio.it Noslin, non riesce ad arrivare al 6 e diciamo che un po' per tutto il Verona oggi è stata una giornata molto negativa, una sconfitta pesante in ottica salvezza.